Benvenuti, siamo con Goffredo Jukic e Antonio Lattanzi, candidati nelle liste della federazione della sinistra in quota rifondazione, comunista a sostegno del candidato sindaco Massimo Cialente. Lattanzi, lei è stato assessore in una delle giunte di Massimo Cialente, aveva la delega all'immigrazione ed è un tema, questo quanto mai centrale, nell'ottica della ricostruzione. Verranno molte maestranze all'Aquila, ci si augura nel cantiere più grande d'Europa e arriveranno molti stranieri o extracomunitari. Sarà in grado l'Aquila di integrarli o piuttosto diventeranno una fonte di tensione sociale? Io credo che l'Aquila ce la farà integrarli. Io sono stato assessore all'immigrazione nella prima giunta, giustamente hai detto in una delle giunte perché ce ne sono state diverse in questi cinque anni e già dei passi si sono fatti allora, per esempio il percorso per l'istituzione della consulta comunale degli immigrati è partito già allora, questo iter che adesso si dovrà concludere. Si è fatto un ragionamento con il consigliere straniero che adesso anche sarà rieletto. c'è stata da parte del comune, della provincia, l'istituzione del centro polivalente per gli immigrati. È chiaro che rispetto al numero che noi avevamo di 3.500 più o meno sul territorio comune del Lago adesso ci sarà un incremento e in questo dovremo, il prossimo consiglio comunale dovrà certamente lavorare e un ruolo importante ce l'avrà anche la scuola perché poi già oggi in alcune realtà c'è una forte presenza degli immigrati nelle scuole anzi grazie a loro che alcune scuole si reggono, riescono a reggere rispetto ai numeri che non la Gelmini ma Tremonti ha imposto nelle ultime manovre della scorsa estate e però bisognerà fare in modo che ci sia anche un discorso per quanto riguarda i centri territoriali permanenti per far sì che ci siano corsi di italiano per stranieri perché l'avere immigrazione nasce pure dal fatto che poi ci si possa avere piena coscienza. Io una cosa buona feci per esempio quando ero assessore alle politiche abitative e immigrazione per esempio il bando per le case popolari in cinque lingue è stato un caso nazionale, tant'è vero che lo pubblicò pure Repubblica perché si dava la possibilità a tutti di poter accedere a un bando che era fondamentale che è quello per avere un'abitazione che poi all'interno di questi complessi tipo San Gregorio c'erano delle tensioni tra italiani e immigrati che bisognava tenere in debita considerazione è un ruolo che è stato complicato ma che io all'epoca ho svolto. Grazie, invece a Jukic chiediamo lei che è anche un operatore nell'ambito dei servizi sociali qual è la situazione dei lavoratori del settore? La situazione dei servizi sociali nel nostro territorio è una situazione molto difficile noi assistiamo troppo spesso a una perdita di diritti acquisiti di questi lavoratori che lavorano per delle cooperative sociali che hanno in appalto i servizi esternalizzati dagli enti questa condizione porta spesso al cambio, all'abbicendamento di cooperative che prendono in carico le convenzioni e questo non sempre permette ai lavoratori di mantenere in carico i servizi mantenendo gli stessi diritti contrattuali che hanno questo purtroppo accade nonostante che le regole che il contratto collettivo nazionale dei lavoratori che i bandi di gara che spesso i comuni il comune dell'Aquila o le comunità montane preparano nonostante questi bandi spesso purtroppo assistiamo a delle speculazioni da parte di questi soggetti io credo che è ora di rompere questo silenzio perché questa cosa avviene da anni, da decenni forse su questo territorio e questi lavoratori che offrono un servizio al fianco dei disabili dei minori, degli anziani, quotidiano, faticoso e impegnativo non vedono riconoscersi spesso quelle che sono dei loro diritti dei loro diritti fondamentali quindi io credo che l'impegno del nostro partito, mio deve essere quello di rompere questo silenzio e di fare in modo che questa cosa quantomeno venga alla luce perché le regole ci sono, esistono spesso però non vengono rispettate e questo a volte capita anche con la compiacenza e il silenzio delle amministrazioni che magari si scrivono il bando nel quale si prevede riassorbimento del personale alle stesse condizioni però poi quando non accade chiudono un occhio a volte tutte e due e questi lavoratori vanno in difficoltà Vigila non sufficienza No, no assolutamente Bene, invece all'attanzi quando si consumò lo strappo di rifondazione comunista con Massimo Cialente a farne le spese fu lei che rimise l'incarico nelle mani del suo partito e quindi il partito uscì dalla giunta salvo poi rientrare subito dopo il terremoto insomma a distanza di alcuni mesi come mai avevate rotto e su quale base avete ricucito? Beh, noi siamo stati fuori comunque non pochi mesi siamo stati fuori dal settembre del 2009 fino all'estate del 2011 quindi un bel po' noi avevamo qualche difficoltà anche precedentemente perché Enrico Berlinguerra mi aveva dire il partito comunista italiano è un partito serio indegnamente prendendo in presto queste parole vorrei dire che il rifondazione comunista è un partito serio e che quando sottoscrive un programma di mandato poi su quel programma di mandato non ha nessuna obiezione le obiezioni che io in giunta e Enrico Berlingu in consiglio comunale abbiamo avuto in questi anni in quegli anni lì è stato quando si andava al di fuori del seminato al di fuori di quelli che erano gli accordi quando arrivavano fuori sacco in giunta dei provvedimenti e così senza una preparazione e quindi non passavano almeno non passavano con il voto di rifondazione comunista perché si trattava di cose che noi avevamo combattuto negli anni precedenti nei nove anni del governo delle destre quindi non era possibile quando c'è stato il terremoto ero in carica io ovviamente e sono rimasto fino al settembre con una difficoltà enorme perché la giunta non aveva più nessun ruolo nessuna funzione faceva tutto protezione civile tutto il governo tranne qualche cosa che era che dovevamo fare obbligatoriamente come le delibere sulle casette che noi l'avremmo vista in maniera un po' più con qualche paletto un po' più stretto la delibere sulla rilocalizzazione delle attività commerciali che io avevo proposto in maniera diversa invece passò la proposta Fanfani che aveva a metà questo assessorato perché aveva le politiche del commercio e lui aveva il SUAP noi avevamo detto di unificare le due cose non è stato possibile abbiamo visto che c'era sostanzialmente una giunta che non riusciva ad essere incisiva men che meno il ruolo di rifondazione perché venivamo tenuti ai margini e decidemmo di uscire poi ci furono le dimissioni di Cialente il rischio di un nuovo commissariamento noi che siamo contro i commissari e per senso di responsabilità decidemmo di dare la nostra disponibilità a rientrare tra l'altro con una delega pesantissima che il nostro assessore Fabio Pelini ha gestito in maniera veramente ottima riuscendo a fare un'operazione incredibile cioè quella di svuotare gli alberghi di svuotare la Guardia di Finanza e riempire tutti i moduli abitativi sia del progetto casa che dei MAP riuscendo a fare in pochi mesi quello che non si era riuscito a fare in tre anni è chiaro che adesso noi ci riproponiamo ma riteniamo che all'interno di una coalizione ci possono essere dei distinguo perché se noi siamo un partito il PD è un altro partito l'API è un altro partito ancora ci saranno qualche distinguo non capisco la posizione di alcuni che dicono ma voi siete stati a volte in contrasto ma ci mancherebbe altro altrimenti saremmo tutti in un unico partito ma non sarebbe una coalizione sarebbe un unico partito che sostiene il sindaco ricordiamo la delega di Fabio Pelini e l'assistenza alla popolazione pesantissima Per concludere con Jukic per un lungo periodo Rifondazione è stato uno dei partiti che maggiormente ha tentato il dialogo con i comitati in particolar modo con quelli che poi si sono raggruppati intorno ad Appello per l'Aquila e portano come candidato sindaco Ettore Di Cesare come mai poi il filo del dialogo si è interrotto e voi avete fatto una scelta diciamo così più istituzionale mentre loro hanno deciso di correre dal conto proprio purtroppo all'Aquila si è persa un'occasione qui c'era la possibilità di praticare un rinnovamento anche del centro-sinistra noi abbiamo inseguito abbiamo cercato di costruire presupposti insieme a chi ci poteva stare quindi immagino alle forze che oggi si raccolgono intorno ad Ettore Di Cesare piuttosto che a quelle che sostengono Mancini abbiamo cercato di proporre loro un percorso all'interno delle primarie del centro-sinistra per scardinare il sistema di cui parlava Antonio che spesso noi abbiamo anche combattuto questo nostro tentativo purtroppo si è infranto di fronte alle lo devo dire piccole ambizioni personali di questi leader che spesso si ritengono gli unici depositari della partecipazione della democrazia in questa città e quindi hanno rinunciato per uno scranno in Consiglio Comunale perché poi noi capiamo bene che oggi la sfida è polarizzata tra il candidato sindaco della nostra coalizione quella che abbiamo scelto di sostenere e probabilmente il candidato sindaco di Matteis tutti gli altri a margine possono recitare dei piccoli ruoli per avere un piccolo posto in Consiglio Comunale noi dicevamo a queste forze compagni o amici possiamo fare un percorso diverso possiamo costruire il rinnovamento del centro-sinistra in questa città a questo ragionamento però in questa cosa noi siamo ci siamo trovati soli ed essendo un partito serio come ricordava Antonio abbiamo il dovere di mantenere i nostri livelli amministrativi quindi abbiamo il dovere di far sì che in questa città ci sia un assessore o due di rifondazione comunista uno, due o tre consiglieri comunali comunisti appunto per combattere le logiche commissariali appunto anche per combattere le storture che purtroppo tuttora ci sono all'interno della nostra coalizione però ovviamente se ci sono le condizioni per partecipare in un percorso ampio di rinnovamento noi siamo anzi siamo quelli che lo promuovevano se poi però troviamo di fronte degli interlocutori che hanno interessi di piccolo cabotaggio per carità legittimi perché io sono candidato al Consiglio Comunale ambisco a fare il Consigliere Comunale lo faccio però all'interno di un percorso di coalizione con il mio partito insomma credo che comunque io segua una strada legittima anche altri però altri hanno rinunciato a costruire il rinnovamento della coalizione grazie 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 a tutti